Com'è lo status quo delle negoziazioni sul partenariato Unione Europea-Stati Uniti? Le negoziazioni sono abbastanza in una fase di stallo, potrei dire, perché come ci è stato detto in una delle riunioni di debriefing da parte del capo negoziatore non si stanno facendo dei progressi significativi, sono molti i capitoli su cui le posizioni Stati Uniti e Europa sono molto divergenti e quindi nonostante ci siano dei proclami di voler arrivare ai giochi finali già subito dopo l'estate per provare a concludere entro l'amministrazione Obama io onestamente la vedo come una cosa abbastanza difficoltosa. Quali sono i capitoli sui quali non c'è un accordo nel dettaglio? Ma in realtà come è stato anche svelato al pubblico dall'X di Greenpeace, le posizioni Stati Uniti e Europa sono assolutamente distanti in tantissimi settori, per esempio l'agricoltura. In questo caso vediamo come una lettera che è stata inviata da 26 senatori americani a Froman, che è il capo negoziatore presso l'Unione Europea, loro richiedono il superamento del principio di precauzione, richiedono l'abbattimento di barriere tariffarie e non tariffarie che permetterebbero l'ingresso in Europa indiscriminato di OGM, carne trattata con ormoni, il pollo che in questo momento è escluso, la carne di maiale e come anche lo studio prodotto dal Ministero dell'Agricoltura americano evidenzia un aumento delle esportazioni dagli Stati Uniti verso l'Europa impressionante, con dei numeri assolutamente incredibili, con gravi ripercussioni sia sulla salute dei cittadini ma anche e soprattutto sulla salute economica dei nostri piccoli imprenditori. Per quanto riguarda invece la fornitura di servizi, cosa prevede attualmente il TTP e su cosa le due parti in causa stanno negoziando? Anche su questo ci sono molti punti che non sono assolutamente vicini, sulla questione della liberalizzazione dei servizi si dice tanto, si continua a dire tanto, noi abbiamo come punto del Parlamento europeo già espresso la richiesta di inserire nei trattati sempre la possibilità di avere una lista positiva, cioè scrivere esclusivamente i servizi che possono essere liberalizzati e anche avere quelle clausole che permettano intanto il ritorno, la non fissità cosa che sul TTP abbiamo un po' di problemi. Inoltre abbiamo la questione anche degli appalti pubblici che è piuttosto spinosa ricordiamo che l'Europa è e rimane uno dei mercati più aperti da un punto di vista dell'accesso delle aziende straniere anche nel campo sia dei servizi che degli appalti pubblici cosa che non ha un contrappeso altrettanto favorevole per esempio negli Stati Uniti dove c'è una differenza tra legge federale e legge sub-federale e dove il Buy American impedisce ancora l'accesso a molti dei nostri imprenditori. Sicuramente questi sono alcuni dei punti offensivi dell'Unione europea quindi quello di permettere alle nostre aziende di arrivare negli Stati Uniti con maggiore facilità. Il problema riguarda il fatto che poi si consente questo tipo di beneficio soltanto a determinate aziende già di grandi dimensioni che già in tutto il mondo hanno appalti e concorrono a gare di un certo tipo ma non si tutelano sufficientemente le piccole e medie imprese. Per come è strutturato il TTIP in questo momento ciò che si viene a delineare è un mercato dove le grandi aziende avranno grandi facilità di acquisizione di nuove quote di mercato a differenza delle piccole e anche quel poco di mercato che potrebbe essere messo a disposizione nelle nostre piccole e medie aziende negli Stati Uniti sarebbe svuotato di significato nella misura in cui si perderebbero consistenti quote di mercato all'interno dell'Unione europea. Per quanto riguarda i liberi professionisti invece ci sono delle novità toccherà anche loro questo partenariato transatlantico? Potrebbe nella misura in cui si intervenisse anche sul cosiddetto mode 4 cosa che anche in questo momento è ancora in una fase di stallo cioè la possibilità di arrivare negli Stati Uniti e avere dei permessi di soggiorno con molta più rapidità cosa che mentre è possibile in Europa per i professionisti americani ancora oggi non è possibile il contrario. Cosa aspettiamo adesso? Quale sarà il prossimo passaggio? Ma onestamente io non mi aspetto molto vedo che l'opinione pubblica è sempre più mobilitata e probabilmente anche per questo i negoziati si sono fortemente arenati abbiamo visto che le intenzioni dei negoziatori originariamente erano ben differenti e nonostante tutte le rassicurazioni che vengono costantemente date quelle che sono state le preoccupazioni che noi abbiamo evidenziato dall'inizio del nostro mandato cioè che ci fosse poca attenzione al principio di precauzione poca attenzione alle piccole e medie imprese troppo orientamento alla grande azienda e al superamento anche dell'autonomia legislativa degli Stati a favore di un potere regolamentare delle multinazionali troppo grande oggi possiamo dimostrare grazie ai leaks di Greenpeace che era tutta verità. grazie a tutti